Nel video di oggi in collaborazione con strumentimusicali.net come potete vedere abbiamo diversi prodotti nell'ambito luci in particolare nel video di oggi parliamo di luci per noi DJ quali sono le categorie di luci che possiamo utilizzare quali sono i vantaggi di un sistema o dell'altro oggi parliamo in generale dell'illuminazione per le nostre serate da DJ Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video io sono Federico, parlo di DJ qua sul mio canale YouTube faccio video come questi quindi se vi piacciono questi tipi di contenuti vi consiglio qui sotto di iscrivervi oggi in collaborazione appunto con strumentimusicali.net che mi hanno mandato tutte quante queste belle attrezzature da vedere assieme bene oggi facciamo chiarezza su più o meno tutte le tipologie diciamo di luci, di sistemi di illuminazione che esistono come ho detto questo video è possibile grazie a strumentimusicali.net che mi ha spedito queste attrezzature che ringrazio stiamo portando avanti la nostra collaborazione realizzando diversi video su diversi argomenti oggi parliamo dell'ambito luci per chi stranamente non dovesse conoscere strumentimusicali.net è semplicemente l'e-commerce numero uno in Italia per comprare attrezzature nell'ambito audio, DJ, luci, sistemi di amplificazione strumenti musicali in generale detto questo, prima cosa da dire sulle luci che presentiamo oggi sono tutte quante DMX cosa vuol dire? Vuol dire che utilizzano il protocollo DMX per comunicare per essere controllate a distanza diciamo non voglio fare una lezione sul DMX però in generale questi prodotti qua che ho scelto che sono quelli che vi consiglio comunque secondo me ha senso acquistarli con protocollo DMX nel 2024 fatta questa premessa possiamo iniziare direi di partire da questa luce qua in particolare il primo sistema che possiamo trovare è uno di questi sistemi diciamo che queste luci sono quelle che io considero diciamo le tutte in uno questo qua in particolare è il Mini Decker di American DJ è un prodotto diciamo che possiamo racchiudere più o meno nell'effetto Moonflower ed è uno di quei prodotti che acquistiamo per avere un po' di tutto diciamo quindi il primo prodotto che potreste acquistare è una cosa del genere per avere un effetto generico che va bene per tutta la serata quindi piuttosto che acquistare uno degli altri dispositivi che vanno bene da soli però sarebbe meglio abbinare insomma due tipologie di dispositivi differenti questo qua può essere una soluzione di partenza per coprire più necessità a livello di prezzo hanno un prezzo abbastanza buono insomma per partire e qui sotto in descrizione avete il link per questo prodotto come tutti quanti gli altri per vedere la scheda tecnica con maggiori informazioni tecniche e per vedere anche il prezzo insomma in questo momento di ogni singolo prodotto se al posto di avere tutto in uno volete iniziare ad investire cosa che in realtà io vi consiglio maggiormente che inizialmente magari comprende solo certe luci poi integrate altri dispositivi vi faccio vedere cosa acquistare in quel caso sicuramente acquisterei una soluzione che ho già proposto nel canale ovvero un classico PAR PAR LED ovviamente come tecnologia questo qua in particolare è l'American DJ Mega X PAR ne abbiamo già parlato sul canale non mi ricordo se era esattamente l'X PAR mi pare di sì cos'è un PAR? sostanzialmente è un faro diciamo composto da dei led che vanno ad illuminare in questo caso in RGB UV e white quindi puoi andare a creare in pratica qualsiasi colore tramite il controller DMX possiamo utilizzarli ovviamente anche per strobo effetti fade eccetera la caratteristica è che ovviamente è una luce fissa quindi è un faro che ovviamente non si può muovere in questo caso con questo dispositivo questi qua sono secondo me la miglior soluzione per andare a creare un setup più completo rispetto alla prima soluzione diciamo tutto in uno questo qua è vero inizialmente avremo soltanto luce fissa o effetto strobo eccetera ma non una luce che si può muovere ma nel momento in cui andiamo ad integrare altre luci che si muovono che adesso vediamo questo qua comunque ha un suo perché ecco motivo per la quale io solitamente consiglio di partire di più da un PAR LED una volta acquistati 2, 4, 6, 8 insomma PAR di questa tipologia qua se vogliamo integrare anche un effetto di movimento quindi non è sufficiente per noi un effetto strobo ma vogliamo integrare anche la luce che si muove effettivamente come un po' viene creato nella prima soluzione possiamo andare ad integrare quello che viene chiamato testa mobile ci sono diverse tipologie di teste mobili questa qua è la tipologia da cui potete partire questa qua è una testa mobile LED in questo caso WASH cosa vuol dire diciamo senza fare una lezione sulle diverse tecnologie di teste mobili praticamente l'effetto che va a creare è quello di un PAR quindi è una luce che si diffonde nell'ambiente con un certo angolo in maniera diffusa questa luce viene diffusa nell'ambiente ruota questa luce però diciamo che l'effetto è sempre una luce che si diffonde nell'ambiente in questo modo questa qua può essere una buona soluzione per partire per due motivi uno sicuramente il prezzo perché tra le varie teste mobili tra le varie tipologie di teste mobili che ci sono questa tecnologia è solitamente quella più economica quindi sicuramente a livello di prezzo è quella da cui si parte solitamente e in secondo luogo perché può fungere anche da PAR quindi ipotizziamo che non vogliamo investire in dei PAR vogliamo avere subito qualcosa avanti ad un PAR di superiore rispetto a un PAR possiamo acquistare delle teste mobili WASH come queste questa qua è abbastanza compatta dove oltre alla funzione ovviamente di testa mobili quindi di andare a creare un effetto dove la luce si muove nell'ambiente possiamo comunque tenerla ferma in una determinata posizione per andare a ricreare l'effetto di un PAR questa qui come vedete è molto compatta è di BIMS questa è la MHL74 testa mobile appunto come ho detto LED quindi andiamo a ricreare gli stessi colori ovviamente a parità di illuminazione di capacità di illuminazione costano di più perché c'è la parte di motore ha senso acquistare un PAR sì secondo me comunque ha senso acquistare un PAR perché è più pratico per fare luce fissa e tutto secondo me un buon step può essere acquistare ad esempio due PAR e poi passare ad aggiungere due teste mobili di questa tipologia ecco o se vogliamo partire direttamente da quattro teste mobili di questo tipo cercando di continuare l'ordine secondo me di acquisto ecco basato sulla mia esperienza e di colleghi il passaggio successivo che possiamo fare è quello di acquistare altre teste mobili o comunque non acquistare le teste mobili wash ma acquistare direttamente altre tipologie di teste mobili in particolare vi ho selezionato un must have o comunque un best seller delle teste mobili questa qua è l'American DJ Pocket Pro e fa parte della categoria, della macro categoria di teste mobili diciamo spot BIM non voglio spiegare bene la differenza tra spot e BIM vi basti sapere in pratica per un DJ che la tecnologia spot BIM ci permette di avere il fascio di luce quindi a differenza di una testa mobile wash che fa come un PAR diffonde la luce nell'ambiente una tecnologia spot o BIM ci permette di creare un fascio di luce quindi andare a creare un effetto più interessante ovviamente va ad illuminare di meno perché concentra la luce soltanto su un punto però a livello di effetto da vedere è sicuramente più interessante infatti è anche più costoso ovviamente come sistema motivo per la quale in ordine metterei prima una testa wash a livello di budget se avete la possibilità potete anche saltare la testa wash e passare direttamente a una soluzione spot o ancora meglio secondo me BIM questa qua in particolare appunto è la Pocket Pro è sicuramente un best seller se è andato a cercare dei video su YouTube specialmente gli YouTuber magari americani che fanno i video dove vanno in giro alle serate con il loro setup la maggior parte utilizzano la Pocket Pro di American DJ la cosa interessante è che comunque è una testa mobile LED e come connessione per l'alimentazione abbiamo come vedete Powercon quindi effettivamente costa di più rispetto ad esempio i prodotti che abbiamo mostrato prima però avere una tecnologia del genere di alimentazione è comunque indice di un prodotto di una fascia superiore eccola qua per il mio gusto personale una delle teste più belle insomma di questa dimensione a livello di qualità costruttiva ovviamente costruita molto molto bene è un best seller per un motivo come vedete qua marchiata American DJ quindi sì sicuramente con questo dispositivo andrete a spendere di più rispetto alla testa mobile wash che abbiamo visto prima diciamo che il prezzo è giustificato sia a livello di effetto che è andata a creare secondo me le vere teste mobili insomma sono quelle spot o beam ma al di là dell'effetto anche a livello di qualità costruttiva qualità percepita affidabilità nel tempo e tutti questi aspetti qua questo dispositivo qua fa notare la differenza di prezzo che c'è tra questo e una categoria inferiore una cosa importante da dire delle teste mobili beam e spot come ho detto visto che vanno a creare questo fascio luminoso a differenza delle teste wash è il fatto che per vedere questo fascio è necessario un altro dispositivo quindi attenzione che nel momento in cui decidete di passare da delle teste wash a delle teste spot o beam avete bisogno non soltanto della testa mobile ma avete bisogno sicuramente anche di una di queste cos'è? questa qua è la classica macchina del fumo una smoke machine in inglese questa qua in particolare è di Beams questa è la S1800 questa macchina del fumo qua in particolare è molto interessante perché è possibile posizionarla verticalmente quindi a differenza delle macchine del fumo diciamo più economiche che ci permettono di essere posizionate soltanto orizzontalmente e di sparare il fumo orizzontalmente questa macchina del fumo ci permette di sparare il fumo verso l'alto in particolare da qua spara il fumo qua abbiamo la nostra tanica per ricaricare il liquido a questo punto siamo arrivati agli ultimi tre dispositivi che sono un po' extra diciamo non sono più una scalata a questo punto dipende dai gusti personali il primo dispositivo l'abbiamo già visto nei canali questo qua è sempre di Beams questo qua è il BBP94 ed è un par led quindi vi chiederete ma perché un altro par led perché a differenza dell'altro par led l'ex par di American DJ questo qua è un par led a batteria verticale la cosa bella di questo par led è che appunto come vedete viene posizionato in questo modo e il suo scopo è quello di illuminare una colonna la parete quindi andare a creare un effetto verso l'alto di diffusione della luce in un appunto supporto una parete a differenza del par led classico che invece si utilizza per illuminare ad esempio le persone il DJ o questa tipologia di illuminazione qua torna comodo anche per un altro motivo molto semplice ovvero che funziona a batteria vediamo di farlo accendere ecco qua come vedete funziona a batteria quindi è perfetto per essere posizionato non soltanto vicino magari alla corrente all'alimentazione ma posizionarlo in un'intera stanza anche distanti da noi questo qua torna molto molto comodo specialmente per matrimoni solitamente o eventi diciamo più eleganti penultimo effetto che possiamo aggiungere al nostro setup è un laser il laser è una delle prime cose in realtà che vi viene in mente di aggiungere secondo me in realtà è uno step da fare solo nel momento in cui abbiamo determinate attrezzature già quelle che abbiamo già visto all'interno di questo video il laser è una cosa extra precauzioni o consigli per il laser sicuramente è quello di non guardarlo come dispositivo principale perché un laser va a creare semplicemente un effetto a livello di illuminazione fa pressoché zero un'altra cosa del laser è che ovviamente ha bisogno di tanto fumo quindi anche a livello di macchina del fumo potrebbe essere necessario se investiamo anche abbastanza soldi in un laser investirne tanti altri anche nel generare abbastanza fumo nell'ambiente per vedere il fascio del laser e attenzione a scegliere il laser di una potenza corretta per evitare di far male a qualcuno ci sono delle normative anche nell'utilizzo dei laser quindi prestate attenzione rispetto agli altri luci ecco è una tecnologia un po' particolare questo laser qua in particolare che ho scelto io è di Cameo ok? parte della Vuki Series Cameo fa secondo me degli ottimi laser come rapporto qualità prezzo quindi cercando insomma un prodotto non super super economico che ci permetta già di avere un ottimo prodotto a livello di qualità costruttiva e anche a livello di potenza come vedete qua dietro insomma ha diversi controlli per il laser ultimo prodotto ma non meno importante per questo video è questa qua di cosa si tratta? questa qua è una barra led una barra led in maniera molto semplice consiste in un par led distribuito a forma di barra quindi dove i led come vedete li abbiamo posizionati tutti quanti in un lato in questo caso abbiamo molti molti led e ci permette quindi di fare la stessa cosa che fa un par led quindi illuminare in maniera diffusa un ambiente ma non tutto quanto da un punto circolare ma appunto in questa maniera qua o orizzontalmente o attenzione anche verticalmente questa qua in particolare è di BIMS è la LCB224 è una barra led abbastanza grande ce ne sono anche di più piccole secondo me la barra led diventa interessante però quando è abbastanza grande quindi ho scelto questo prodotto perché ha un'ottima illuminazione ed è abbastanza grande da poter vedere l'effetto vedere l'effetto cosa vuol dire? vuol dire che possiamo ad esempio pensare di avere due o quattro barre led di questo tipo e far scorrere l'illuminazione da una parte all'altra i nostri led incrociarli insomma andare a creare diversi effetti che invece con un par led non è possibile ok il video di oggi è giunto al termine ringrazio ancora strumentimusicali.net per avermi fornito tutte queste luci per realizzare questo video sarà divertente richiudere tutto quanto fatemi sapere qui sotto voi che luci avete che luci volete acquistare o se volete qualche consiglio insomma da me su qual è il sistema di illuminazione giusto per voi in base alle vostre esigenze e niente per il video di oggi appunto è tutto ci vediamo molto presto con nuovissimi altri video qui da Federico è tutto al prossimo video